Novità in Toscana per i centri provinciali per l'impiego da gennaio dipenderanno dalla regione. È l'accordo firmato oggi dal governatore Enrico Rossi e dal ministro del lavoro Giuliano Poletti. I particolari da Walter Rizzo. Firmata a Firenze la convenzione tra la regione toscana e il ministero delle politiche sociali per la gestione regionale riformata dei centri per l'impiego. La Toscana è la prima regione italiana a sottoscrivere l'intesa con il ministero. Siamo convinti che abbiamo firmato un buon accordo non solo perché dà certezze a 1050 lavoratori diretti o indiretti che lavorano nei centri per l'impiego ma perché crea le basi perché le politiche regionali per la formazione, le politiche regionali per lo sviluppo economico abbiano, mi viene questa espressione, un termine medio nel centro per l'impiego. I centri non saranno nelle intenzioni di regione e ministero una struttura meramente osservativa ma dovrebbero diventare un centro che integri i sistemi informativi, la formazione e gestisca gli interventi di solidarietà sociale impiegando tutti i dipendenti alle strutture provinciali. Insieme lo Stato, quindi il ministero del lavoro e le regioni lavoreranno sulla base di un accordo che abbiamo siglato a uno, mantenerli attivi, due, potenziarli, tre, adattarli alle politiche attive che abbiamo deciso insieme di fare.